Lezione della Guida del Sintero numero 152, 7 maggio 1967 La connessione tra l'Io e il potere universale Saluti, miei cari amici Possa questa lezione donarvi comprensione e forze ritrovate Affinché i vostri tentativi di trovare voi stessi Chi siete, dove appartenete e come vi potete realizzare Siano un po' più agevoli Che attraverso queste parole possiate trovare un nuovo raggio di luce E vi apriate veramente ai nuovi aspetti di idee Che forse avete già ascoltato in passato Ma che non sono ancora diventate una verità Che avete sperimentato in prima persona In ultima analisi, dare un senso alla propria vita E realizzarsi dipende interamente dalla correlazione tra l'Io E il principio vitale universale o se reale Come lo chiamiamo noi stessi Se questo rapporto è equilibrato Ogni cosa va al posto suo In modo o nell'altro Ogni lezione tratta questo argomento Anche se cerco di parlarne sempre in modo diverso Per aiutarvi a sperimentare infine La verità di queste parole Cerchiamo di definire di nuovo il principio vitale universale E in che modo esso si manifesti in voi Il principio vitale universale è la vita stessa È coscienza eterna nel senso più profondo e più alto È movimento perenne e piacere supremo E poiché è vita Esso non può morire È l'essenza di tutto ciò che respira Si muove, vibra Sa ogni cosa perché crea e si atuo perpetua di continuo Ed è fedele alla sua stessa natura Ogni coscienza individuale È coscienza universale Solo una parte di essa Che implica una piccola porzione Ma laddove esista una coscienza Quella è coscienza originaria La coscienza originaria O principio divino di vita Assume varie forme Se un'entità durante il processo di individualizzazione Perde memoria della propria connessione con la sua origine Si verifica uno scollegamento La coscienza particolare continua a esistere E a contenere la coscienza universale Ma diventa ignara della sua stessa natura Delle sue leggi e dei suoi potenziali In breve questa condizione della coscienza umana Nel suo insieme Quando iniziate a prendere coscienza del principio vitale Scoprite che esso è sempre stato lì Ma non lo notavate Perché avevate l'illusione di esistere separatamente Non è quindi del tutto corretto Affermare che la coscienza universale si manifesta Sarebbe più corretto dire Che voi iniziate a notarla Potreste notare il potere sempre presente Del principio vitale sotto forma di coscienza Autonoma o di energia La personalità dell'io Separata Le possiede entrambe Ma intelligenza dell'io È di gran lunga inferiore all'intelligenza universale Indipendentemente dal fatto Che possiate riconoscerla o meno E metterla in pratica Lo stesso dicasi per l'energia La coscienza e l'energia Non sono aspetti separati della vita universale Ma sono una cosa sola Alcune persone tendono a essere più recettive Verso l'una o l'altra Entrambe sono sperimentate Come una parte della propria autorealizzazione Una caratteristica di base Del principio di vita universale Che si esprime come coscienza autonoma O come energia È la spontaneità È impossibile che si manifesti Con un processo complicato O con uno stato ristretto E iperconcentrato La sua manifestazione Avviene sempre in un modo indiretto A seconda dell'impegno investigativo Rispetto Dell'impegno investito E quantomeno ce lo si aspetta Che sia indiretto Non vi esime certo dell'impegno Dovrete superare la resistenza Dovrete superare la resistenza Ad affrontare voi stessi nella verità Ammettere i problemi e le credenze E liberarvi dalle illusioni Una cosa che richiede Grande impegno Radunate tutta la forza E il coraggio che potete In ogni momento Ma spendetevi Per vedere la verità su di voi Per desistere Da una specifica illusione Per superare Ciò che vi impedisce Di voler essere costruttivi E non per un processo Ancora teorico Che si chiama Autorealizzazione Che vi promette benessere Se si cerca E ci si impone L'autorealizzazione Con caparbetà Essa Non potrà venire E se arriverà Come un effetto secondario Per così dire Anche se è una cosa Che potreste Mai desiderare di conseguire Ogni passo Sotteso a vedere La verità In voi Con genuino desiderio Di partecipare In modo costruttivo Al processo creativo Della vita Libera il sé E' così Che hanno inizio I processi spontanei Che non dipendono mai Da un valore Volere concio Pertanto Più si ha paura Dell'ignoto Di lasciare andare Nei processi involontari Del proprio corpo Meno si avrà la possibilità Di sperimentare Il principio vitale Spontaneo Nel sé Il principio vitale Si può assumere La forza Di una saggezza Indicibile Nel risolvere I propri problemi personali O nel coltivare I propri talenti creativi Oppure Si può rivelare Come un nuovo Vibrante modo Di vivere la vita Che dà sempre Un sapore A nuovo A tutto ciò Che si sta facendo E vedendo Il principio vitale E' sempre sano Offre sempre Una speranza fondata Che non vorrà Mai delusa Non esiste la paura In questa nuova esperienza Di vita Tuttavia Non la si può Né sollecitare Né forzare Si manifesta Nella misura esatta In cui Non temete più I processi involontari L'umanità Si trova Nella posizione Assurda Di bramare Profondamente Il frutto Di quei processi Involontari E al tempo stesso Di temerli E combatterli Il conflitto E' terribile E' tragico Può essere risolto Solo Lasciando andare La paura In fin dei conti Ogni problema Psicologico Deriva da questo Conflitto Essenziale Esistenziale Molto più profondo Che va ben oltre La neurosi individuale E le difficoltà personali Vissute da bambine Che in seguito Producono conflitti interiori E idee errate Tuttavia La vita E' tesa A risolverlo Per riuscirvi La prima cosa Da fare E' individuare E capire I singoli conflitti Neurotici Dovete Imparare A vedere E' accettare Tutto ciò Che c'è di reale In voi Negli altri Nella vita Deve Prevalere L'onestà Per fermare I tentativi Di ingannare La vita Per sottili Che siano Si devono Eliminare Tutti i difetti Tutti i difetti Del personaggio Per eliminare Intendo A metterli In pieno E osservarli In modo obiettivo Senza cadere Nello sconforto O nella negazione Dei difetti Questo Questo atteggiamento Di per sé Rimuove I difetti In modo Infinitivamente Più efficace Di qualsiasi Altro approccio In altre parole Non si tratta Di rimuovere Da prima I difetti Affinché si possa Verificare Qualcos'altro Ma di osservarsi Con calma Nel difetto Solo allora Si potrà percepire Il conflitto Esistenziale Tra l'io E la coscienza Universale La coscienza Universale Si manifesta Spontaneamente Non ha nulla A che vedere Con i progetti Religiosi Di una remota Divinità O con una vita Al di là Di quella fisica Queste sono Interpretazioni Errate Storte In seguito Alla percezione Del principio Di vita universale Quando una persona Lo percepisce E cerca in qualche modo Di trasmettere Quell'esperienza A colui Il cui Io È ancora In conflitto Con il principio Vitale creativo Si producono Interpretazioni Errate Che vi alienano Dal vostro Io immediato E dalla vita Pratica Di ogni giorno Le persone Che temono Questi processi Alienati Li eliminano Costruendosi Teorie Vaghe Costoro Cercano Un compromesso Tra il proprio Anelito Che proviene Dal senso profondo Delle effettive Possibilità A loro disposizione E il proprio Timore È un compromesso Presente In ogni forma Di religione Ufficializzata Che rimuove Dio Dal sé E dalla vita Quotidiana E che divide E che divide La natura Umana In essere Fisico E spirituale In tal modo La loro piena Realizzazione Si sposta Dal principio Del proprio Adesso A una vita Dopo la morte Tutti 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 Questi modi Di vedere E approcciare La vita Non sono Altro Che un compromesso Tra ciò Che si sente Possa esistere E ciò Che si teme Questa paura Va al di là Delle paure Neurotiche Che derivano Da idee Errate E traumi Vissuti Di persone Qual è Questa paura Di base Di mollare L'io esteriore E di consentire Ai processi universali Di operare E di prendervi Per mano Deriva Dall'equivoco Di credere Che rinunciare All'io E qui lo valga Rinunciare A esistere E per capire Un po' meglio Il problema Vediamo come L'io Abbia formato Se stesso Dalla vita Universale L'individualizzazione È un aspetto Integrale Della forza Universale La vita È un continuo Movimento Un Pretendersi Non espandersi E incontrarsi È la ricerca Di nuove aree Di esperienza E di nuovi territori La vita creativa Non è diversa E trova modi Sempre nuovi Di sperimentare Se stesso Nel separarsi Sempre più Dalle sue fonti Originarie La coscienza Individuale Dimentica La sua essenza E diventa Ignara Dei suoi principi E delle sue leggi Fino ad apparire Come un'entità Del tutto Separato L'esistenza Individuale Viene così Associata A un'esistenza Separata Rinunciando All'io L'individuo Teme dunque Di annientare La sua unica Personale Esistenza Questa è La concezione Attuale Degli esseri Umani Voi Vivete Nell'illusione Che la vita Il senso Di Io Sono Si possa Trovare Sola In un'esistenza Separata Un'illusione Che ha Introdotto La sua morte Nel regno Umano Poiché la morte Non è altro Che quella Illusione Portata Alla sua Assurdità Finale Rendersi Rendersi Conto Del carattere Illusorio Di un'esperienza Separato Dall'io È un passo Assai importante Nell'evoluzione Dell'uomo Ogni lavoro Di autorealizzazione Pone Una chiara Attenzione Sul problema Laddove Considerate L'immediata Verità Su voi Stessi Come individui Vedrete Come voi E il principio Della vita Creativa Siate Una cosa Sola E poi Scoprirete Tutto quello Che vi sto Dicendo Si può Realizzare E verificare Proprio Nel qui E ora Non si tratta Di un insegnamento Teorico Da accettare Tutto più A livello Intellettuale Più Vi vedrete Nella verità E lascerete Le illusioni Su di voi Più Vi accorgerete Di non Stare rinunciando All'esistenza Individuale Quando Permettete I vostri processi Involuntari Del principio Vitale Creativo Di assumere Il controllo Ed integrarsi Con le funzioni Del Dio Alcuni amici Hanno iniziato A sperimentare Sempre più Spesso L'immediatezza Di questa Vita Più vasta Avvertono Un'energia Rinnovata E scoprono Paradossalmente Che Più Dispensano La vita La loro Energia Più generano Energia Rinnovata Dentro di sé Questa È la legge Del principio Vitale Universale Lo Stato Separato Opera In modo Dualistico Sembra Logico Che Più si Dà Meno si Ha E più Ci si Dispuota Ciò Deriva Dall'illusione Che Nell'individualità Non ci sia Altro All'infuori Del Dio Esterione Questa È La radice Della paura Ad abbandonare Tutte le difese Del Dio In modo Analogo Coloro Coloro che Cominciano A provare Quei poteri Quelle energie Iniziano Anche A notare L'afflusso Di un'intelligenza Ispiratrice All'apparenza Molto più vasta Di qualunque cosa Conoscano Nell'intelletto Esteriore Diversamente Dalla Saggezza Interiore Eppure Si tratta In sostanza Del loro Sé Migliore Se le prime Appare La loro Come una Forza Estranea Cosa Che non è Appare Così Solo Perché Quei Canali Erano Stati Occlusi Dalle piccole Bugie E Illusioni E Dal non Sapere Della Loro Esistenza Questa Intelligenza Più vasta Si rivela Come una Guida Come Ispirazione E con Una nuova Forma Di intuito Che non Viene Con una Percezione Vaga Bensì Con parole Precise Con una Conoscenza Ben Definita Comprensibile E traducibile Nel vivere Quotidiano Scoprire Questa Nuova Vita Riconcilia Gli Opposti Apparenti Di Essere Individuo E Parte Integrante Di Un Insieme Non Più Opposti Inconciliabili Ma Realtà Interdipendenti Tutti Quegli Opposti Tutte Quelle Alternative Che Sembrano Escludersi L'un Con L'altra Che Causano Tanto Dolore All'un Inizio Iniziano Ad Andare Al L'Io Si Connette Alla Vita Universale Quando Dico Di Lasciare Andare L'Io Non Dico Di Annichilirlo O Addirittura Di Trascurarmi L'importanza O Di Metterlo Da Parte L'Io Ha Reso Se Stesso Una Parte Separata Della Vita Universale Può Essere Trovata Nel Profondo Dentro Di Se Sia Pronto A Riconnettersi Con La Sua Fonte Originale Quando L'Io Diventa Forte A Sufficienza Da correre Il Rischio Di Fidarsi Difficoltà Diverse Dalle Sue Limitate Capacità Coscienti Troverà Una Nuova Sicurezza Che Non Si Sarebbe Mai Sognata Prima La Paura Di Questo Nuovo Passo Nasce Dal Pensiero Che L'Io Verrà Annientato Cadrà Nel Nulla E Paura Mitiga L'apparenza Rivolgendosi A sostanze Psichiche Immobili E Pietrificate L'immobile Sembra Sicuro Il Mobile Pericoloso Voler Restare Fermi Rende La Vita Spaventosa Poiché La Vita È In Moto Perenne Quando Scoprirete Che Il Movimento È Sicuro Perché È Lui A Condurvi Avete Trovato L'unica Vera Sicurezza Tutte Le altre Forme Difficorezza Affidarsi All'appoggiarsi Alla Staticità Sono Illusorie E Generano Sempre Nuove Paure È Lo Stesso Principio Che Muove I Pianeti Che Non Cadono Nello Spazio In Fondo Al Dramo Umano C'è Sempre La Sensazione Che Se Non Mi Tengo Pensato Mi Metto In Pericolo Ma Una Volta Che Siete Diventati Consapevoli Di Questo Sentire Disporrete Di Una Chiave Importante Perché Potreste Anche Valutare L'eventualità Che Vi State Sbagliando Non C'è Nulla Da Temere Non C'è Rischio Di Restare Schiacciati O Di Essere Annientati Potete Solo Essere Trasportati Come I Pianeti Nello Spazio Come Vi Dico Sovente Lo Stato Della Coscienza Attuale Dell'umanità Crea Sia Il Mondo In Qui Vivete Sia Le Sue Leggi Fisiche Voi Siete Talmente Abituati Ad Anteporre L'effetto Alla Causa Ciò Dipende Dal Vostro Stato Mentale Dualistico Che Non È In Grado Di Vedere Il Quadro Completo Che Tende A Pensare In Una Modalità O O Voi Non Siete Rilegate A Questa Sfera Piuttosto Questa Sfera Il Suo Contenuto È Espressione Dello Stato Generale Di Coscienza Umana Una Delle Leggi Fisiche Che Esprimono Tale Stato Di Coscienza È La Legge Di Gravità È Una Legge Speciale Che Riguarda Solo La Vostra Coscienza Dualistica La Alla Reazione Emotiva All'ansia Di Cadere E Di Restare Annientati Se Si Riuscisse Se Si Rinunciasse A Un Io Che Si Ritiene Essere La Sola Forma Di Esistenza Individuale Le Sfere Di Coscienza Che Hanno Trasceso Il Dualismo Di Questo Piano Hanno Le Leggi Fisiche Diverse Conformi Alla Lora Coscienza Generale La Scienza Umana Persino In Pura Ottica Materialistica Dimostra Che Le Cose Stanno In Questo Modo Lo Dimostra La Scienza Dello Spazio Nello Spazio Esterno Non Vi È Gravità La Vostra Non È L'ultima Né Unica Realtà Questa È Più Di Un'analogia Meramente Simbolica È Un'indicazione Che Potrebbe Allargare Il Vostro Orizzonte Nel Pensare E La Vostra Illusoria Esistenza Dell'Io Come Applicare Questo Amici Miei Al Punto In Cui È Arrivata La Maggior Parte Di Voi Nella Ricerca Del Proprio Sé Reale La Cosa Si Collega Immediatamente Ai Vari Strati Della Vostra Coscienza Più Riuscite A Rendere Cosciente Il Materiale Che Era In Conscio Così Da Reindirizzare I Riflessi Fallaci Di Quel Del Principio Universale Che È In Voi Il Principio Vitale Universale Diventa In Tal Modo Più Libero Di Rivelarsi E Voi Proverete Meno Paura Vergogna E Pregiudizi E Vi Potrete Predisporre A Riceverlo Chiunque Vi Potrà Confermare Che Più Si Trova Il Coraggio Di Guardare La Vita La Verità E Non L'altro Che La Verità Su Di Sè Più Diventa Facile Connettersi Alla Vita Più Vasta Più Sicura E Più Felice Che C'è Dentro Di Sè Più Sarete Collegati A Qualcosa Che Elimina Ogni Certezza E Conflitto Più Avvertirete Una Sicurezza E Una Capacità Di Operare Che Non Sapevate Di Possedere E Allora Ecco Che Arrivano Le Funzionalità Del Potere E Dell'Energia La Funzionalità Di Un'intelligenza Che Risolve Qualsiasi Tipo Di Conflitto Fornendo Soluzioni A Problemi All'apparenza Insolubili Tutti I Sè E I Ma Della Vita Pratica Quotidiana Svaniscono Non Ricorrendo A Mezzi Magici Esterni Ma Attraverso La Vostra Crescente Capacità Di Far Fronte A Tutto Ciò Che Accade Come Parte Integrante Di Voi Stessi Inoltre Svilupperete Una Maggior Capacità Di Trovare Piacere Così Come Giusto Che Sia Nella Misura In Cui Avete Scollegato Quei Stessi In Quella Misura Dovrete Proseguire Questo Modo Di Vivere Alcuni Anni Orsono Ho Usato Questi Termini Per Descrivere Alcuni Livelli Generali E Fondamentali Della Personalità Umane Il Sè Superiore Cioè Il Vero Potenziale Comune A Tutti La Vita Universale In Ogni Umano Il Sè Inferiore Con Tutti Gli Inganni E Difetti Del Vostro Personaggio Le Illusioni Le Finzioni E La Distruttività Poi Ho Accenato Un Terzo Componente Che Chiamavo Il Sè Maschera Il Sè Idealizzato In Sostanza Fingere Di Essere Ciò Che E L'Approvazione Altrui Durante Le Nostre Conversazioni Ci siamo Abbattuti In Molti Aspetti Di Questa Triade Una Volta Che Vi Ho Parlato Di Un Fenomeno Diffuso Ossia Della Vergogna Provata Per Il Sè Superiore Del Meglio Che C'è In Voi A Molti Tipi Di Personalità Non Sembra Cosa Decorosa Manifestare I Propri Impulsi Migliori I Più Amorevoli E Generosi Sembra Molto Più Facile E Meno Imbarazzante Mostrare Il Proprio Lato Peggiore Oggi Posso Dirvi Qualcosa Di Più Su Questo Temo A Un Livello Più Profondo E Più Sottile Perché Questo È Un Punto Molto Importante Direttamente Connesso Al Timore Di Esporre Il Ser Reale Alcune Lezioni Del Passato Si Limitavano A Descrivere Alcuni Aspetti Di Un Certo Tipo Di Personalità A Un Livello Relativamente Superficiale La Personalità Specifica Di Cue Ho Parlato In Seguito Prova Una Vergogna Soprattutto Per Le Buone Qualità Per Il Dare E Per L'amare Queste Persone Credono Di Rispondere All' Esigenza Della Società E Quindi Perdono L'integrità Della Loro Individualità Temono La Loro Sottomissione E Dipendenza Dalle Opinioni Altrui E Dunque Si Vergognano Di Ogni Loro Genuino Impulso Di Soddisfare Gli Altri Si Sentono Perciò Più Se Stessi Quando Si Comportano In Modo Stile Aggressivo E Crudere Ogni Essere Umano Ha Una Reazione Simile Rispetto Al Proprio Sé Reale Ciò Non Vale Solo Per La Loro Effettiva Bontà E Amorevole Generosità Ma Anche Per Ogni Altro Sentire E Modo Di Essere Genuino Questa Strana Vergogna Si Manifesta Come Imbarazzo Per Mettersi Monstra Così Come Si È Vi Fa Sentire Come Se Foste Ignudi Ed Esposti È Un' Esperienza Che Può Fare Chiunque Non Si Tratta Della Vergogna Dei Propri In Ganni E Distruttività Né Della Propria Acquiescenza Questo È Una Vergogna A Un Livello Del Tutto Diverso E Di Diverse Qualità Ve Lo Posso Descrivere Solo Dicendo Che Essere Ciò Che Si È Nella Realtà Vi Fa Sentire Totalmente Nudi A Prescindere Da Pensieri Sentimenti O Comportamenti Buoni O Cattivi È Essenziale Capirlo Poiché Spiega Come Si Creano I Livelli Artificiali I Livelli Artificiali Non Derivano Solo Da Idee Errate Nel Senso Comune Del Termine Quando Si Espone Quel Nucleo Di Sè Come Si È In Quel Momento La Personalità Ha Un Minor Timore Di Essere Annullata O In Pericolo Ma Prova Più Vergogna L'elemento Di Pericolo Arriva Quando L'Io Fra Prevalere I Processi Involontari La Vergogna Si Sente In Modo Più Acuto Quando Si Dimostra Che Si È In Quel Momento A Causa Di Questo Sentire La Gente Finge Un Tipo Di Finzione Diverso Da Quello Che C'è L'assenza Di Integrità Distruttività O Crudeltà Questo Tipo Di Finzione Più Profondo E Sottile Potreste Fingere Che Davvero Potreste Provare Amore Sincero Ma Il Mostrarlo Vi Fa Sentire Nudi E Così Create Un Fals Amore Potreste Provare Vera Rabbia Come Adesso Ma Quella Rabbia Vera Sembra Sterile E Allora È Creata Una Falsa Rabbia Potreste Provare Vera Tristezza Ma Nel Riconoscerla Vi Sentite Mortificati Anche Voi Perciò Vi Creato Una Falsa Tristezza Che Potete Subito Mostrare Agli Altri Potreste Sperimentare Lealmente Il Piacere Ma Anche Questo È Umiliante Da Far Tropellare E Quindi Creato Un Falso Piacere Lo Stesso Vale Per Elementi Quali La Conflusione E La Perplessità Intensificate Intensificate Ed Esagerate Le Emozioni Che Provate Come Vi Spiegavo Nella Lezione Precedente E Così Le Falsificate Siccome Il Sentire Reale Sembra Così Nudo Ed Esposto Ne Create Uno Finto Questa Falsificazione Funziona Come Un Indumento Proiettivo Che Nessuno Conosce Al Di Fuori Del Sé Più Profondo Di Cui Di Solito Non Non Si Conce Tale Protezione Anestetizza La Vivacità Dell'impulso Vitale Ogni Imitazione Crea Uno Schermo Tra Voi E Il Vostro Centro Vitale Anche Questo Vi Separa Della Realtà Poiché È La Realtà Del Vostro Stesso Essere Che Non Sopportate E Che Vi Sentite Costretti A Imitare Falsificando In tal Modo La Vostra Stessa Esistenza Il Solo Per L'Impatto Sulla Vostra Sicurezza Ma Anche Sul Vostro Vergoglio E Dignità Ma Tutto Ciò Non È Crula E Tragica Illusione Così Come Trovate Vera Sicurezza Solo Quando Vi Unite Alla Fonte Di Tutta La Vita In Voi Allo Stesso Modo Trovate La Dignità Solo Quando Vincerete La Vergogna Di Essere Autentici Qualunque Cosa Ciò Possa L'Annichilimento Sembra Un Male Minore Rispetto Alla Strana Sensazione Di Imbarazzo E All'Esposizione Del Proprio Essere Reale Riconoscere Quell'Imbarazzo E Non Liquidarlo Come Irrilevante È Un Grande Passavanti Amici Miei Provare Imbarazzo È La Chiave Per Trovare Il Torpore Che Genera Disperazione E Frustrazione Già Che Esso Conclude L'Alienazione Di Particolare Di Disconnessione Non È Traducibile In Un Linguaggio Razionale Perché Non C'è Nulla Che Possiate Dire In Parole Semplici Per Distinguere Il Reale Dal Falso Cambia Solo Il Sapore Dell'Esperienza E La Qualità Dell'essere I Sentimenti Di Imitazione Sono Spesso Sottili E Talmente Radicati Da Diventare Una Seconda Natura Pertanto Occorre A Fare Una Rinuncia Profonda E Sensibile E Permettersi Di Sentire E Di Essere Così Come Si È Volendo Discernere Le Proprie Scoperte È Necessario Tutto Questo Perché Diveniate Del Tutto Conci Dell'apparente Esposizione Nudità Che Produce In Voi Il Sentire Reale L'invitazione Quando Siete Veri Qualcosa Qualsiasi Cosa Ci Comporti Ma Prima Di Poter Fare Questa Esperienza Dovete Affrontare Il Fenomeno Della Vergogna E Della Nudità Vedrete Quel Momentaneo Autentico Se È Lungi Dell'essere Perfetto Non È Un' Esperienza Drammatica Ma È Cruciale Poiché Ciò Che Siete Ancora Contiene Il Germe Che Vi Servirà Per Vivere In Modo Profondo E Vibrante Voi Siete Già Quel Potere Vitale Universale In Esso C'è Ogni Immaginabile Possibilità Ciò Che Siete Adesso Non È Disanorevole A Causa Dei Vostri Difetti Lo È Molto Di Più Per Come Appare A Voi A Causa Della Sua Realtà Immediata Ed Esistenziale Sembra Così Nuda E Cruda Con Il Coraggio Del Vostro Vero Io Potrà Avere Inizio Un Nuovo Approccio Alla Vita Interiore Dopodiché Cadrà Ogni Finzione Ciò Che Vale Sia Per Le Finzioni Ovvie E Grezze Che In Genere Vedano Tutti Tranne Voi Sia Per Le Finzioni Sottili Appena Descritte Queste Ultime Si Frappongono Tra Io E Il Sé Universale Esse Formano Uno Schermo Sottile Ma Solido Che Blocca La Forza Vitale Sono Responsabile Della Vostra Allenazione Del Principio Di Vita Universale Creano Un Abisso Alla Apparenza Insidioso E Essere La Vostra Paura E Vergogna Illusoria Questa Vergogna Ha La Stessa Valenza Di Tutte Le Paure Che Conducano Idee Errate Escessioni Dall'individuo Essa Ha Origine Da Alcune Paure E Ne Crea Altri Ma Non È Esattamente La Stessa Cosa Di Quelle Paure Il Profondo Simbolismo Del Racconto Di Adam Ed Eva Spiega La Vergogna Della Propria Nudità Nel Mostrare Se Stessi Per Come Si È La Nudità Della Realtà È Il Paradiso Poiché Quando Quella Nudità Non Viene Più Rinnegata Può Iniziare Una Nuova Esistenza Felice Nel Qui E Nell'ora E Non In Un'altra Vita Nell'aldilà Ma Ci Si Deve Ambientare Un Po Dopo Essere Divenuti Consapevoli Della Vergogna Occorre Un Percorso Nel Percorso Per Diventare Più Consci Delle Abitudini Radicate Ma Sottili Con Cui Si Scopre La Nudità Interiore Quanto E Facile Tornare A Provare Vergogna A Causa Di Vecchie Consuetudini Ma Se Ne Prendete Alto E Suscitate Sistematicamente I Poteri Che Avete In Voi In Modo Da Notare La Vostra Vergogna E I Vostri Nascondigli E Imparare A Venire Allo Scoperto Uscirete Finalmente Dal Sarete Nudi Ma Sarete Come Siete Ne Migliori Ne Peggiori Di Ciò Che Siete Ma Ne Anche Diversi Da Come Siete E Interrompete L'Imitazione E I Falsi Sentimenti E Molti Modi Di Essere E Andrete Nell'avventura Nel Mondo Con La Vostra Autenticità Avete Domande Su Questa Lezione Domanda Come Si Può Capire Se I Propri Sentimenti Sono Autentici O Artefatti Risposta L'unico Che Può Determinarlo Dopo Una Seria Verifica Sei Tu Prima Di Tutto Considera La Possibilità Che I Tuoi Sentimenti Possano Essere Fittizi Senza Lasciarti Spaventare Da Ciò Poiché Le Persone Provano Terrore Al Solo Pensiero Che I Loro Sentimenti Possano Essere Anche In Modo Sottile Temono Che Se I Loro Sentimenti Non Sono Reali Allora Non Hanno Sentimenti Temono Il Proprio Vuoto Questa Paura È Devastante E Fa Si Che Voi Continuate A Fingere Ma C'è Sempre Dentro Di Voi Un Punto In Cui Dite No Non Voglio Sentire Che Nasca Dalle Infanze Da Traumi Personal Oppure Dal Problema Umano Più Profondo Comune A Tutti Gli Individui Che Ho Spiegato Nella Lezione Dietro C'è Sempre La Decisione Di Non Sentire Decisione Spesso Non Consepevole Per Cui Si Disconnessi Da Essa E Avulsi Dalle Conseguenze Che Ovviamente È L'assenza Del Sentire Il Terrore È Infinitivamente Più Acuto Quando Il Sé Cosciente Che Vuole Sentire Ignora Il Lato Del Sé Che Tema Il Sentire Il Terrore Di Non Riuscire A Provare Sentimenti Non È Paragonabile A Nessun Altro E Quindi Di Enormi Aiuto A Rendersi Conto Che Nessuno È Realmente Privo Dei Sentimenti E Che Essi Non Possono Mai Svanire Del Tutto Vi Di Sentire Sono Un Tut Uno Dove C'è Uno C'è Pure L'altro Anche Se Uno Dei Due Dovesse Essere Disattivato Al Momento Sapendo Ciò È Possibile Cercarsi Dentro E Chiedersi Dov'è Che Ha Deciso Di Non Sentire Quando Sarete Del Tutto Consapevoli Della Vostra Paura Di Sentire Smetterete Di Avere Paura Di Non Provare Sentimenti E Dunque Possibile Riattivare Il Sentire Con L'aiuto Della Ragione Attraverso Una Valutazione Realistica E Razionale Delle Circostanze Vi Ho Dato Molti Spunti Su Cui Riflettere C'è Materiale A Sufficienza Che Potrete Usare Come Profitto Nel Proseguimento Del Vostro Cammino Si Ha Benedetto Ognuno Di Voi Che I Vostri Sforzi Vi Aiutino A Essere Veri E Trovare Il Coraggio Di Mettervi A Nudo Senza False Coperture Se Lo Volete Davvero Che Non Potrete Non Riuscire Se Una Persona Non Si Muove Non Cresce E Non Si Libera E Perché Non Lo Desidera Davvero Ed E Importante Saperlo Trovate In Voi La Voce Interiore Che Rifiuta Di Muoversi Passano Tutti I Vostri Falsi Strati Svanire Perché È Ciò Che Volete E Decidete Veramente Allora Scoprirete La Gioia Del Vivere Siate In Pace Siate In Dio Avete Ascoltato La Lezione Della Guida Del Sentiero Numero 152 La Connessione Tra Io E Il Potere Universale Per Ulteriori Informazioni Visitate Il Sito Web www.bibriotecadelsentiero.org